Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Stefano De Martino muove i primi passi nel settore della danza all'età di 10 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Ultra Dance Company, con la coreografa Maccia del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini, vince un contratto, con il Complexians Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Stefano De Martino ha condiviso una foto di Belen Rodriguez molto intima, uno scatto artistico che sembra essere quasi un quadro. Lo showman napoletano, con gli occhi dell'amore, è riuscito a realizzare un'immagine pazzesca. Ecco Belen Rodriguez che posa su un balcone che affaccia sul meraviglioso panorama del lago di Garda. La coppia ha trascorso lì il weekend assieme a tutta la famiglia dell'Argentina. Il clan si è riunito in una meravigliosa villa extra lusso per festeggiare il compleanno di Veronica Cozzani. La madre della showgirl ha compiuto 60 anni, e un simile traguardo andava celebrato nel migliore dei modi. Nel corso del weekend di festeggiamenti ha voluto fare un'eccezione. E, guardando l'immagine, pare che ne sia valsa davvero la pena. Il gesto romantico di Stefano potrebbe essere stato anche un modo per chiarire come lui e Belen stiano bene assieme, smentendo i gossip sulla loro rottura. Difficile dire se dietro la pubblicazione ci sia stata questa volontà. Per ora non possiamo che applaudire De Martino per la bellissima foto realizzata.